Cristian, hai fatto l'intervista in Pesarese o come te la vuoi fare? Magari, anche perché io vivendo a Roma e girando tutta l'Italia, è molto divertente girarla, che ne so, la gente davanti a te infila la cassa e da dietro sente dai giù, dat namor, oh, sbroite, e la gente non capisce, quindi parlare in Pesarese in giro per l'Italia è meraviglioso. Poi adesso lo fai con la mascherina, non ti vedono neanche. No, infatti, scusami, scusami, con la mascherina poi di Rocco Schiavone c'ho, no? No, eccola qua, io vi aspetto in televisione, guardate, da ottobre ci sarà la quarta stagione insieme a Marco Giallini di Rocco Schiavone, quindi sì, c'è anche questa. Adesso che ti abbiamo apprezzato in questo tuo ruolo da showman che ci ha fatto divertire, veramente eravamo piegati da ridere, complimenti, anche perché tutto spontaneo, sicuramente saremo degli spettatori di Rocco Schiavone. Perfetto, io vi ringrazio, è sempre un privilegio presentare la squadra della mia città, questo applauso non è per me, è per il presidente Bosco, state tranquilli, e spero che tanti pesaresi si avvicinino sempre di più a questa squadra che è una delle prime dieci squadre d'Italia a livello storico, quindi per me è veramente un onore salire su quel palco ogni anno. Grazie mille Cristian, in bocca al lupo allora per la tua trasmissione. A voi e ten botta. Ten botta. Grazie.